Si annuncia un inverno molto rigido per le scuole superiori pesaresi, perché gli enti pubblici non sono esenti dal caro bollette e in provincia si sono già fatti due conti in tasca. Se le cose non migliorano, se non arrivano aiuti, l'amministrazione è in grado di garantire il riscaldamento nelle scuole superiori solo fino a dicembre. Quest'anno abbiamo sulle spese di riscaldamento solo per le scuole superiori di 3 milioni di euro, il che non è sostenibile perché la provincia è un ente che vive con i trasferimenti che ti fa allo Stato e con alcune tasse automobilistiche che sono diminuite di un milione e mezzo di euro. Tradotto, un bilancio con enormi entrati in meno ed enormi uscite in più. Come UPI nazionale stiamo lavorando sul governo perché hanno fatto una serie di trasferimenti ma sono irrisori. Abbiamo avuto 190 mila euro di contributo, mi sembra 190 mila euro di contributo, ma a fronte di 3 milioni di euro capite che noi veramente siamo preoccupati. Sì, speriamo di poter garantire il riscaldamento alle scuole. Naturalmente alcune cose cambieranno perché cercheremo di razionalizzare il tutto. Sarà dunque inevitabile vivere autunno e inverno con piccole e grandi rinunce oltre ad espedienti di risparmio. Temperature più basse nelle scuole, incontri che dopo le 5 non si fanno più, le luci devono essere spenti, i riscaldamenti dovranno essere spenti a una certa ora. Le palestre, mentre prima erano riscaldate anche per le associazioni o per delle realtà che andavano a utilizzarle il pomeriggio, noi garantiremo solo il riscaldamento per la scuola. E ad eccezione di alcune realtà dove possono andare dei diversamente arabili che garantiremo il riscaldamento, non lo garantiremo più il pomeriggio, come quando io ero piccolo che andavamo a giocare e la doccia si faceva a casa. E anche i rientri pomeridiani aggiuntivi, piuttosto che la scuola al sabato, possono diventare un argomento spendibile sull'agenda dell'austerity. Si può recuperare qualche ora il pomeriggio oppure il sabato può esserci la dad, come è stata fatta. Per esempio gli incontri con i genitori si faranno in videoconferenze, bisogna che troviamo delle soluzioni.